Sì, grazie, 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 sono Enzo Testini, conosciuto come DJ Tex, sono fiero di fare il capodanno ad Imperia per tanti motivi, considerato che io ritengo che Imperia abbia sempre voglia e comunque è giusto che la gente di Imperia si diverta. La cosa che mi emozionerà è che quest'anno appunto condurrò dall'inizio alla fine la serata, nel senso che avrò il piacere e l'onere di presentare tutte le band, di dare animazione durante il passaggio tra una band e l'altra, di dare il countdown insieme a Stefano Martini che è il mio collega più giovane e di dare la possibilità di saltare tutti al famoso 3-2-1, il nuovo anno, e spero e vi auguro, anzi vi invito a dire alla gente di accorrere molto più numerosi dell'anno scorso, che abbiamo fatto dei numeri bellissimi, ma vi posso garantire che la location tutta Calatacuni è aperta, tutta la situazione è aperta, Imperia è illuminante, tra l'altro ho visto anche la temperatura sarà 14 gradi, pertanto ragazzi avremo una città con una temperatura idonea per fare il Capodanno all'aperto, quindi occhio a voi, dateci una mano e questo sarà il Capodanno, bello, firmato 2016-2017, città di Imperia. Grazie.